Bene, allora iniziamo subito questa seconda puntata di CreatiV, ma prima lasciatemi ringraziare chi si è fatto sentire dopo la prima per farci complimenti. Complimenti in bocca al lupo, persone che si sono fatte vivere solo per dirci che bello che tornate, insomma grazie a tutti. E a proposito degli sms arrivati, voglio ringraziare Teoma Mucari che ce n'ha spedito uno facendoci tanti complimenti perché lui ci segue sempre. E mi dicono che quando non ci può vedere ci registra. Già, è proprio vero? Ora musica, Fats Fats Machine! Mu! Mu!